La sensazione è bella, lo dicevo prima, Foggia l'ho voluta io, dopo l'esperienza di Avellino cercavo una grandissima piazza. Foggia è quella che ti dà entusiasmo, emozioni, niente, sono molto felice, sono orgoglioso, non vedo l'ora di iniziare per far felice un popolo che vive in base all'andamento di un risultato un'intera settimana. Sono contento che avrò delle responsabilità notevolissime e mi auguro di far felice come mi è capitato negli ultimi anni e chi sarà ripetitivo ama la maglia e vive il risultato al di là del campo. Due poli forti si attraggono e non si respingono, se il direttore avesse portato un allenatore normale tutti voi avessero detto, lei ha portato un pupazzo, porta uno e come farà? Penso che la scelta che ha fatto la società si indirizza proprio su questo, dove ognuno avrà un proprio ruolo sì, io sono un allenatore, penso che di grande personalità, di grande esperienza come lo è Mimmi basta non invadere i propri ruoli e se va avanti a voi non basta.